La cosa più bella, più importante che la Fondazione Fiera ha immaginato e realizzato è l'Accademia perché forma dei giovani, li introduce al lavoro e dà un contributo reale a tutto il sistema. Mi è stata molto utile l'esperienza che ci hanno riportato sempre i vari docenti dell'Accademia che erano in primis professionisti del mondo degli eventi. Per ogni persona cercavano di creare quasi un piano formativo personalizzato. Quello che si impara secondo me è quello che possono trasmettere questi ragazzi. La flessibilità, la voglia di migliorarsi, l'orientamento ai risultati e il capire i processi interni ad ogni azienda. Del mio futuro sono fiera. Del mio futuro sono fiera.